1. Oggi Qualche considerazione Allora io ho imparato che Gli scacchi sono un gioco Ma anche uno sport Ma anche uno strumento politico e culturale Sono stati e sono ancora oggi Ma la cosa più bella di tutte Poi ne parleremo con un nostro ospite È tutta questa mitologia scacchistica Che è affascinante E che per noi non praticanti È quello che si direbbe fuori di testa Perché senti delle cose Innanzitutto sapere che Ci sono delle persone E poi lo sentiremo Ripeto più avanti Che imparano a memoria le partite E per loro È come vedere un film Per me No per loro Perché ha senso Per noi non avrebbe nessun senso Mi sono chiamata fuori E poi quando si parlano Fanno i riferimenti Ma allora in quella partita Là quando lui a un certo punto Alla dodicesima mossa Ha fatto questa roba qui E l'altro gli risponde Sapendo esattamente Di cosa si sta parlando Ed è una roba incredibile Io credo che da questo punto di vista Neanche gli appassionati Di altri sport Siano così Precisi Così Maniacali Mi viene da dire Poi ci sono tutte delle cose Che io anticipo adesso Ma che poi vedremo in dettaglio Ci sono tutte per esempio Delle modalità di gioco Che sono Anche lì Per noi Profani Assolutamente Extraterrestri E per loro Per gli scacchisti Questa qui è la quotidianità Per esempio Le partite in simultanea Dove hai Solitamente un maestro E parleremo anche di questo O gran maestro O uno importante Che a livello anche promozionale Di spettacolo E probabilmente c'è anche Una questione economica dietro Perché da qualche parte Questi devono anche guadagnare Insomma devono mangiare anche loro Fanno una partita Contro una miriade di Avversari Per cui praticamente tipo Credo che sia stata fatta una volta O più di una volta anche a Lugano Praticamente in piazza Vengono messi 50 tavoli 50 scacchiere 50 partite pronte E 50 persone 50 Non 100 Perché 50 giocano Ognuno la sua partita E di là La celebrità Che gioca 50 partite In contemporanea E una scacchiera Dopo l'altra E la gente si ricorda Che Nell'83 Guarda che quello lì Ha vinto una simultanea Ha vinto 49 partite Su 50 E una patta Si ricordano Tutte queste qua Poi ci sono le partite Per esempio Dove io e te Siamo seduti a un tavolo Siamo due grandi Amanti degli scacchi Due praticanti Bravi E cominciamo a giocare E cominciamo a giocare Senza avere la scacchiera Cioè tutto a mente Uno dei due Comincia con un'apertura E la partita Va avanti così Senza scacchiera Capisci che c'è un mondo Dietro Che merita Un po' di attenzione Sì in effetti Mi ricordo Nella regina degli scacchi Che a un certo punto Loro sono Mi sembra in un viaggio in auto E giocano mentalmente Eh sì Ce l'avete citato Già in diversi Che è tornato Un po' di moda È tornato Accattivante il discorso Sugli scacchi Anche perché Proprio negli scorsi mesi È stato diffuso Una volta si sarebbe detto Un telefilm Adesso si chiamano Serie tv tv shows Insomma un qualcosa Che ha riportato fortemente Gli scacchi E gli anni anche 50 Nel nostro immaginario Il tutto parte da un libro Che poi appunto È diventato serie tv E quindi in questi casi Noi di solito Coinvolgiamo Il nostro centro di competenza Cinema e letteratura È tornata Moira Bubola Buongiorno Buongiorno È un piacere essere qui con voi Per parlare Della regina degli scacchi Una serie Una mini serie televisiva Sette puntate Di un'ora circa l'una Che ha coinvolto Il pubblico Infatti tanti messaggi Che sono arrivati E la critica Binomio vincente Perché è piaciuto tantissimo Alle più diverse generazioni E ha convinto Diciamo così Quegli occhiuti Che guardano tutte le sbavature E allora la serie Io personalmente l'ho vista Mi sono lasciata convincere In questi casi Perché pensavo No parla di scacchi E a me cosa interessa E invece La costruzione estetica Il rigore Proprio costruttivo Ci sono dei giochi D'immagine Dei rimandi E gli scacchi Addirittura nella carta Da parati Insomma Che cosa ci dice di più Il prodotto così Televisivo Chiamiamolo così Anche se non è Completamente televisivo Moira Allora L'hai detto perfettamente È tratto da un libro Di Tevis Un grandissimo scrittore Popolare E quando dico popolare È un complimento E dunque parte già Da un buon Da una buona materia narrativa Gli scacchi sono un pretesto Che cosa rappresentano Gli scacchi Per questa orfana Beth Harmon Elisabeth Muore la sua mamma Si trova in un orfanotrofio E lei capisce subito Che è un outsider Non riesce A stringere legami D'amicizia Con le altre ragazze A parte con una Jocelyn Simpaticissima Che poi ritornerà Nella sua vita Un personaggio fantastico Che cosa capisce Beth Capisce Questa sua difficoltà Si sente diversa E negli scacchi Trova qualcosa Che è solo suo Trova una materia Nella quale eccelle Lei è una mente matematica Si ricorda ogni mossa Appunto Vede di notte Sulla carta da parati Le mosse che potrebbe fare Gli scacchi diventano Il suo mondo Dove lei davvero Può entrare in relazione Con gli altri In che modo Vincendo È donna È giovane Siamo negli anni 50 Deve muoversi In un ambiente Completamente maschile E ostile all'inizio Poi le cose cambieranno Qual è la forza Di questa narrazione Che ci racconta Gli scacchi Per raccontarci Che cosa significa Diventare adulti Diventare adulti Significa Aver bisogno degli altri Come approcciare gli altri E poi ci sono le ombre Le ombre lo sappiamo Sono sempre molto affascinanti Perché sono in ognuno di noi Le insicurezze Le paure La memoria Il rapporto con la propria famiglia d'origine Tutto questo Elisabeth Ce l'ha nel cuore Tutto questo avrà Una svolta profonda E anche drammatica Perché Elisabeth Cosa succede? In orfanotrofio Le danno delle pilloline Per tranquillizzarle Lei diventa dipendente Da queste pillole E poi diventerà dipendente Dall'alcol Dovrà liberarsi Da questa dipendenza Per arrivare Ad essere libera Insomma Avete sentito Quanti elementi ci sono Per quello ci è piaciuta Così tanto E poi c'è lei L'attrice Allora Adesso ci arriviamo Però volevo fare un complimento A Moira Bubola Che è riuscita A raccontarci tutto Senza però Raccontarci veramente Che cosa succede Quindi incuriosendo Chi Questo la regina degli scacchi Lo volesse Vedere da capo Sicuramente Il gioiello Il fiore all'occhiello Della serie Tra l'altro Ci sarà una seconda stagione? Ah Sembrerebbe di sì Ma anche di no Insomma Ho paura Della seconda stagione A questo punto Perché potrebbero Lovinarsi qualcosa di bello Dicevamo che è la sua Protagonista Una delle più lanciate In questo Tra l'altro Difficilissimo 2020 Dal punto di vista Cinematografico Anya Taylor-Joy Una ragazza Dalla bellezza Quasi Extraterrestre Glaciale In questa serie Con gli occhioni Ma sì Alcuni hanno detto Sembra una bambola Giapponese Poi noi donne Sembriamo sempre qualcosa E qui mi taccio È una gran brava attrice Ha saputo entrare nel ruolo Con Autenticità E poi a queste Misa Nei 50 Che stanno benissimo Su di lei Diciamo che È riuscita a capire Anya Taylor-Joy Che la posta in gioco Era proprio il personaggio Perché tutta la storia Fondamentalmente È un ritratto psicologico Di una giovane donna E lei E lei Questo lo ha capito Perfettamente Qui vediamo Quanto sia importante La sensibilità E l'empatia Di un attore Perché quando capisce L'attore Qual è la posta in gioco Allora va in quella direzione E Anya Taylor-Joy C'è andata benissimo Cioè si è proprio Identificata Con il personaggio E ha capito Che portava lei Tutto sulle spalle E lo ha fatto Dall'inizio alla fine È proprio uno Dei personaggi Della sua vita Sin qui Il personaggio Della sua vita Anche se Di collaborazioni importanti Ne è fatte anche oltre Abbiamo detto Che è una specie Di prima romanzo E dopo telefilm Di formazione A chi lo consigliamo Moira? Allora Lo consiglierei A tutti i tipi Di pubblico Sicuramente Lo consiglierei A dei giovani Adolescenti Perché si vede Si vede E si capisce Che cosa rappresentano Le dipendenze L'alcol Ma anche le pastiglie Sono una trappola E questo la serie Lo dice In maniera molto forte Magari accompagnati Anche da un occhio Dei genitori Perché è importante È una serie Che può essere vista In famiglia Secondo me Perché ci sono Tanti elementi La protagonista Beth Harmon Avrà una mamma Adottiva A un certo punto Ed è uno Dei rapporti più belli Che lei stringerà In questa serie La mamma È chi ci mette al mondo Sì Ma la mamma Può essere anche Una donna Che ci accompagna Poi in un percorso di vita In un tratto Della nostra vita Dunque sono davvero Tanti gli argomenti E poi A tutti gli uomini Vedere quanto Le donne Abbiano fatto fatica Per riuscire Ad imporsi Per riuscire A trovare il loro posto Al mondo Negli anni 50 Ancora oggi succede Dunque Prendiamo questa consapevolezza Anche se arriva Da una serie tv Benvenga Moira Per concludere Ti faccio una di quelle domande Difficilissime E ti chiedo anche Di rispondere velocemente Se puoi Ogni tanto qualcuno si chiede Ma come mai A un certo punto Tutti si innamorano Di un film Di un libro O in questo caso Di una serie televisiva Che cos'è che fa passare Un prodotto da popolare A culto O comunque fenomeno Allora È una domanda difficilissima Che cosa lo fa passare Da popolare A culto A fenomeno La capacità Di parlare Al cuore Delle persone Raccontando Esperienze Intime E vere Di vita vissuta Ognuno di noi Ha vissuto Un pezzettino Di quello che è capitato A Beth Harmon E questa è la chiave Secondo me Con Moira Buvola Naturalmente giornalista RSI Si occupa del centro Di competenza cinema E letteratura Qui per noi Abbiamo parlato Di La Regina negli scacchi Abbiamo detto Lo potete leggere Oppure vedere Su una delle principali Piattaforme di streaming Grazie Moira Alla prossima A voi un piacere Buona giornata Arrivata di tutto Da Loredana che dice Io tanti anni fa Mi ero decisa A cimentarmi con questo gioco Ho comprato un libro Ho letto Come si disponivano Tutti i pezzi Sulla scacchiera Lei li chiama personaggi Nel messaggio Secondo me Personaggi è già Una bella visione Però veniamo Da un mondo letterario E cinematografico Un attimo fa Dice Ho rimesso il libro Nella libreria Sta ancora lì Però ogni tanto Lo spolvero Quindi Come per dire Che questa attrazione Questo sentimento Dell'avvicinarsi c'è Ma magari Mi viene da pensare Anche per ragioni anagrafiche Uno dice Ma magari è troppo tardi Miriam Ma perché differenziano Questi campionati Questi tornei Maschile e femminile Il cervello Lo usiamo uguale Non c'entrano i muscoli E in questo caso Non c'entra il corpo Ottime domande Abbiamo un ospite Davanti a noi Che è pronto A raccontarci qualcosa di più È David Camponovo Di scaccomatto.ch Buongiorno Benvenuto a uno oggi Buongiorno a tutti I radiospettatori Allora Iniziamo a dirimile Questa questione Come mai Questi tornei Di cui parlavamo prima Sono differenziati Maschi e femmine È giusto Si fanno tornei misti Come funziona? Ma questa è una bella domanda Che in questi oltre 20 anni Di attività scacchistiche Ho sentito E dovuto rispondere Tantissime volte E immagino Diciamo che c'è un retaggio storico Assolutamente Prima di tutto Bisogna pensare Che gli scacchi Che giustamente Sono uno sport Una cultura Un'arte anche Oltre che un gioco E diciamo Si presta bene Anche quando si è bambini Perché comunque È una battaglia Quindi è un po' più vicino Diciamo Al mondo maschile E quindi ci sono Dei motivi Proprio storici E anche Quando è nato Gli scacchi moderni Nei caffè In Francia Eccetera Giocavano gli uomini Ma poi c'è anche Una risposta Che non è ancora definitiva Che dà la scienza Dove noi abbiamo Il cervello Con due emisferi Uno destro E uno sinistro E diciamo Che uno scacchista In realtà Deve utilizzare Tutte e due Tra l'altro Una cosa simpatica Lo deve utilizzare In modo un po' più lento Ossia Deve essere Sì concentrato Ma deve essere Quasi in un altro stato Ma si utilizza In modo più importante L'emisfero destro Perché Noi non siamo Un computer Che calcola Tutte le varianti Ma dobbiamo anche Immaginare O riprendere Delle immagini Delle situazioni Con dei pezzi Messi in un certo modo E questo La parte destra Che è un po' più Sviluppata Nell'uomo Che nella donna Viceversa La donna Ha un po' più grosso Il cervello Parte sinistra Si presta meglio Diciamo L'uomo Però La storia Ha dimostrato Che ci sono state Delle giocatrici Fortissime L'ultima Veramente Straordinale Che è arrivata Fino ai primi posti mondiali È la Judith Polgar Grande Campionessa Ungherese Che è venuta Anche a Lugano Tra l'altro È un momento Memorabile Una decina di anni fa Ecco La risposta è Che possono giocare Tutti Assolutamente Ma l'uomo Ha storicamente Più portato A giocare a scacchi Ok E Miriam Prendo questa considerazione Torniamo a Scacco Matto È una realtà attiva Da più di vent'anni Organizzate tornei di scacchi Per tutti Quindi grandi Piccoli In tutto il Ticino E anche l'Open Nugano Che è proprio questa manifestazione Che promuove Gli scacchi Per tutte le età E lì Torniamo Un po' Al discorso Che faceva Loredana E altri ascoltatori Prima O che potrei fare io Io ormai sono grande Non sono più Nella categoria I bambini A cui si insegna A giocare a scacchi Ho speranze? Assolutamente sì Gli scacchi È meglio apprenderlo A un'età giovanissima Io ne approfitto Per fare gli auguri Al mio Dario Che oggi Compia sette anni Ebbene Lui è già tre anni Che gioca E È incredibile Tra l'altro Quello che riesce a fare Anche per la memoria Che sicuramente Poi lo aiuta Per la scuola Lo aiuta Per tutto Perché gli scacchi Sono davvero Una ginnastica Della mente Ma gli scacchi Si può apprendere A qualsiasi età Quindi Anche uno Che va in pensione Che dice Ho tempo Voglio imparare Assolutamente Si può imparare A qualsiasi età E chiaramente Iniziando da giovane È un po' come andare in bicicletta Ti rimarrà per tutta la vita Ed è più facile Perché un bambino È una spugna Quindi assorbe tutto In maniera più naturale Ok ma se io ho dei bambini piccoli E vorrei fargli vedere Fargli provare questa esperienza Così come in altri contesti Gli insegno ad andare in bicicletta E a nuotare E provo a fargli fare Qualche altro sport o disciplina Ma io non so giocare a scacchi Cosa faccio? Beh allora Oltre Oltre che Magari Imparare A giocare a scacchi Quindi in modo di insegnare Si può naturalmente Contattare la federazione Oppure scacco matto E ci sono delle persone Che insegnano questo gioco Con grande piacere Io per esempio Ogni mercoledì insegno bambini E ci sono poi tantissimi Tantissimi corsi In realtà Di possibilità per imparare ci sono Poi ci vorrà un po' di costanza Qualche libro Qualche collegamento online Iniziare a imparare il gioco In realtà è molto semplice Perché i movimenti sono chiari Il difficile diventa Giocare bene Quindi qui C'è già della speranza Comunque E beh certo La speranza La speranza C'è sempre Ma David Camponovo Negli scacchi È più importante L'applicazione O il talento Perché uno dice Ma io non sono bravo Uno che non ha talento Che non è Applicandosi Studiando Facendo Ci arriva a giocare bene Allora L'applicazione Come in tutti gli ambiti sportivi È fondamentale Perché solo con il talento Oggigiorno non si va da nessuna parte Però è vero che il talento È importante Io ho avuto il piacere Di conoscere E seguire Caruana Che adesso è il numero due al mondo È un italiano-americano Che ha giocato per la nazionale italiana Attualmente gioca per gli Stati Uniti Ebbene Lui Non ha mai fatto le scuole normali Tra virgolette I genitori I genitori l'hanno veramente spinto Intravedendone il talento E lui si allenava otto ore al giorno A scacchi Sì Ok Oltre che Delle ore dedicate Alla resistenza fisica Quindi nuoto Per esempio Corsa Perché Quando si giocano Cinque o sei ore Adesso stiamo parlando Di un livello importante Devi essere in forma Per poter essere al cento per cento E dunque David Camponavo Rimani con noi Pinocchio Paolo Riva È già qua Ha promesso numeri Ha anticipato qualcosa Dici in più Allora Evidentemente Trovare numeri Sul gioco degli scacchi Può essere molto semplice Perché È immenso Poi producono numeri A raffica Già questa cosa Delle 64 caselle Della leggenda Del cinese Che dice Un chicco Sulla prima casella Due Nella seconda Quattro Nella terza È una leggenda cinese Va bene Quella che Non basterebbe il riso Il riso Della Cina Amica della Svizzera Non basterebbe il riso Della Cina Per dire che Le mosse possibili Prima Proprio in entrata Uno dei primi messaggi Che abbiamo letto Era di un ascoltatore Che diceva Io so tutte le mosse È una persona Da tenere estremamente In considerazione Perché tutte le mosse Possibili negli scacchi Sono circa Dieci elevate a ottanta Ma intendeva dire Le basi Per iniziare Sono tantissime E beh Tanto è stato calcolato Anche quello Che si dice Essere più Del numero Degli atomi Dell'universo Le possibilità Di mosse Negli scacchi Allora Ci sono Tanto per cominciare Stime Perché poi Non è che li hanno contati Uno a uno 600 milioni Di giocatori Nel mondo 600 milioni Di giocatori Di scacchi Dunque È piuttosto diffuso In tutto il mondo Allora La media delle partite La media delle partite È di 38 mosse 38 mosse È la media Delle partite Ma Ma La partita La partita Più lunga Registrata Sono state 269 mosse Vuol dire che Hanno preso vacanza Perché poi ci pensano Fanno Poi schiacciare L'orologio Poi si ricomincia 269 mosse Ma Teoricamente C'è chi si occupa Di questi calcoli La partita Più lunga Possibile A scacchi Potrebbe arrivare A 5949 Mosse Invecchi Lì alla scacchiera Praticamente La barba Nel frattempo I tuoi figli Si laureano I capelli Esattamente Allora Sempre per riguardo A chi conosce Tutte le mosse Degli scacchi Allora Ti chiedo Secondo te Quante possibilità Ci sono Di combinare Le prime Quattro mosse Di una partita Ma perché Mi fai queste domande Ma che bello Vediamo L'ordine di grandezza Le prime quattro mosse Le prime quattro mosse Di una partita Quante possibilità Ci sono Per combinarle Non lo so Qualche migliaio 2000 Non lo so Sei tenera Sono tenera 318 miliardi Ah ok 979 milioni 564 mila Possibilità E adesso Paolo Rimaceli Le prime Quattro Le prime Quattro mosse E pensa Che in questa Scacchiera Con Questi pezzi Per cui è bella Follata all'inizio La scacchiera Con queste 64 caselle C'è stata Una partita Che io adesso Cito Che è Thornton Contro Walker Nel 1992 Non so assolutamente Chi siano questi due giocatori Che è famosa Perché questi due giocatori Sono riusciti a fare Cento mosse C'è il nostro ospite Che mi guarda Curiosissimo Senza catture Cioè cento mosse Evitando Accuratamente Di catturare Un pezzo All'avversario È un record È un record Anche Anche quello lì E poi termino Con un ultimo numero È una statistica Interessante Sai che io sono affascinato Da questi personaggi Perché secondo me Se tu nella vita Diventi gran maestro Di qualsiasi cosa Anche gran maestro Di punto croce Ma se diventi Gran maestro Di scacchi Per me È una roba Che mi affascina Tantissimo Poi chiederemo Al nostro ospite Come si diventa Gran maestro Bene 250 gran maestri Sono russi Basta Non ti dico Mi ripeti Solo quanti sono Più o meno I giocatori Al mondo 600 milioni Ecco sto pensando Quel bambino Che dice Ma io sono l'unico No non sei l'unico Della mia classe I miei amici Non vogliono giocare Con me A scacchi Perché sono l'unico Che gioca a scacchi E invece Fuori Fuori c'è un mondo Di scacchisti 650 milioni 600 Perché si inventi 50 milioni Oggi abbiamo Ancora voglia Di parlare di scacchi Anche perché Prima facevamo Riferimento a questa Serie televisiva La regina degli scacchi Che diciamo così È stata seguita Da chi di scacchi Non capiva nulla Come già raccontavamo E qualcuno si è chiesto Ma veramente qualcuno Può guadagnare Vivere di scacchi Paolo Riva Lo chiedo a te Ma probabilmente Lo chiediamo al nostro ospite Allora la mia impressione Lui la conferma Da persona informata Dei fatti La mia impressione È che qualcuno Può anche vivere di scacchi Ma pochi pochi Sbaglio? Davide Camponovo? Allora Assolutamente Si può vivere di scacchi Però sono pochi eletti Diciamo I primi eventi al mondo Vivono Senz'altro bene Di scacchi E poi magari anche Coloro che Sono campioni unici Non so Il campione d'Austria Piuttosto che Il campione della Gran Bretagna Eccetera Che quindi La loro patria Avendo questo titolo Possono farlo valere Farlo pesare E quindi Con sponsorizzazioni Inviti a tornei Per esempio Venendo le nostre latitudini Il premio a Lugano Dell'Open Che organizzo Ormai da dieci anni In Villa Sassa È un premio Comunque per quattro giorni Si porta a casa A duemila franchi Ecco Questo è un torneo Però minore Ci sono invece tornei Dove abbiamo Dei montepremi Che arrivano A cinquanta Centomila franchi O ci sono delle borse Per il campionato del mondo Io ricordo Il magnifico Campionato del mondo Di Brissago Che fu un evento Straordinario Dove la borsa Era un milione E quando eravamo? Lì eravamo Nel duemila Arco cane Non ricordo Se il duemila sei Mi sembra Duemila sei Duemila sette Dovrei andare a verificare E vabbè Non tantissimo tempo fa Comunque David Camponovo Scaccomatto.ch Dunque ne parlavamo già prima Attiva da vent'anni L'organizzazione di tornei Eccetera Abbiamo capito Che dunque Anche con le dovute Proporzioni letterarie Quell'immaginario E quell'immaginario lì Creato dalla serie tv Dal libro Non è così Comunque dissimile Da quello che Succede ancora oggi Esiste Quel mondo lì Quelle sale Quelle partite Quei fan E quindi Quei premi Naturalmente La serie Ci parla anche Di un personaggio Non completamente limpido Ai suoi demoni interiori C'è questo uso Di altre sostanze Per La protagonista Cerca di vedere La scacchiere il gioco Con più chiarezza In realtà Annebbiandosi il cervello Con queste sostanze Ha reso Probabilmente Gli scacchi Un po' più sexy Questa serie David Camporola Vola vista Sì Io ho apprezzato Molto la serie Mi è piaciuta Tantissimo Non ci sono stati Anche errori clamorosi Che negli scacchi È possibile Con magari La scacchiera messa Col bianco Non sulla destra Possono esserci Degli errori L'unica cosa Che vorrei dire Subito È che Non è che Bevendo O prendendo pastiglia Che si gioca meglio A scacchi Assolutamente no Questo è per il cinema Infatti lo raccontava Prima Moira Bubola Brevemente Confermo assolutamente Tra l'altro Una piccola curiosità Anche negli scacchi Essendo uno sport olimpico Può esserci Dei controlli A sorpresa Dell'anti-doping Tipo se uno si beve 15 caffè Risulterebbe positivo Questa è una piccola curiosità O bevande energizzanti Che si voglia Arrivano Paolo Prima di rilasciarti la parola Anche dei messaggi Da parte degli ascoltatori Che ci riportano Dietro nel tempo Per esempio Qualcuno si ricorda Della sua mitica maestra Rosemary di Sonvico Che ha insegnato A giocare a scacchi Ai suoi allievi Delle scuole di infanzia Utilizzando questo sistema Per lavorare con i bambini Su altre attività Un mito Questo insegnante Che belle le scacchiere Create dai bambini Anche questo era un modo Per coinvolgerli Quindi loro facevano La loro scacchiera E' così E' così che funziona Un'altra cosa Del mondo degli scacchi Che io trovo affascinante Da profano Cioè io mi appassiono Non alle partite Perché non le capisco Non capisco la genialità Di quella mossa lì Che poi porterà Fra Sedici mosse A vincere Il risultato che volevi tu Non le apprezzo Ma ci sono tutta una serie Di cose di contorno Che per esempio Il fatto che Ci sono gli entourage Dei campioni Come nella box Tra l'altro Che c'è tutta la squadra Attorno E questi entourage Ai tornei Fanno più rumore Dei giocatori Perché protestano Protestano con arbitraggio Perché l'avversario Prende delle pause illecite Per andare in bagno Ci sono La storia degli scacchi David Camponovo Può probabilmente Confermarlo Immagino È costellata Di incidenti Tra virgolette Diplomatici Durante le partite Che diventano Veramente una guerra di nervi Sì Io proprio di quello Volevo fare Volevo dire una cosa Per esempio Dei bambini Delle scacchiere A Comano Stanno facendo Una scacchiera gigante La stanno costruendo I bambini E Per iniziare Anche io Ho dato la scacchiera Per esempio Dei puffi Ecco La fantasia E abbinare Questi scacchi Con un po' di fantasia È fantastico Dicendo invece La domanda di Paolo Diciamo che Casi così Eclatanti Bisogna proprio Tornare al 72 Quando c'è stata Questa grande sfida In realtà Nelle sale da gioco C'è una grande Tranquillità Se mai Le proteste Vengono fatte scritte Dopo la partita È difficile Che si intervenga Oppure Ci sono gli applausi Come si vedeva Nel film Questo in realtà Non è di scacchi Veri È vero E io sono anche arbitro Che esiste L'arbitro Nel gioco di scacchi Anche se interviene Veramente Raramente Questo va detto Perché il giocatore Per giocare a scacchi Deve avere Prima di tutto Una grande lealtà E rispetto Verso l'avversario Sto immaginando Mi avrebbe Che fischia Il cartellino giallo E si interrompe la partita Paolo Riva Forse voleva tornare Anche a queste partite Multiple Giusto Una sola persona Contro molti Beh sì È una delle cose Affascinanti Per chiunque Si avvicina Al mondo degli scacchi Anche chi non li capisce Vedere una persona Che gioca 50 partite Contemporaneamente È abbastanza impressionante Ti do un dettaglio In più Così almeno poi Il nostro ospite Può ricamarci su Succede Che il campione In questione Tipo dopo due mesi Tipo dopo due mesi Ma anche di più Ha già capito Dove voglio andare a parare Riscrive le 50 Riscrive le 50 partite Ma tu ti immagini Che cassetti Che ha questo nel cervello Due mesi dopo Gli dicono Ma lei si ricorda La simultanea di Lugano Contro 50 Aspetti che gliele scrivi Sì intanto ci stanno scrivendo Anche gli ascoltatori Che dicono E poi ci sono io Che non ricordo Cos'ho mangiato a colazione Stamattina Però questa cosa qui Ti ho detto È così no? Io dirò di più Ci sono stati dei campioni Nella storia Che hanno giocato Delle simultanee Quindi in contemporanea Con 10 20 50 100 giocatori Ma addirittura E questo però Non è forse Proprio il massimo Per il cervello Perché si va Perché si va veramente Oltre Alla cieca Quindi dicendo E 2 E 4 L'altro risponde E 7 E 5 Quindi semplicemente Parlando Senza vedere i pezzi Senza vedere i pezzi Ma non una partita Io sono capace A giocare una partita Ma giocare addirittura 10 15 E dopo ricordarsi Esattamente Tutte le mosse Nell'ordine giusto Questo è anche Molto importante Ma questo anche Perché lo scacchista Nella sua carriera Diciamo Nella sua evoluzione Memorizza Delle posizioni E quindi Non è che in realtà Deve tenere a mente tutto Ma ci sono Tutta una serie Si chiamano Pattern Modelli Bravissimo E quindi questo Facilita la memoria Io credo Veramente Che spero Insomma Che anche gli ascoltatori Ci abbiano seguito In questo Incuriosirsi E rimanere affascinati Da questo parlare di scacchi E quindi Anche a loro Si è venuta voglia Oltre al sito Della federazione Scacchistica Ticinese Ricordo in questo caso Scaccomatto.ch Appunto abbiamo detto Che si può Imparare a giocare Già da giovanissimi Già da bambini David Camponovo Che è ancora con noi È giocatore Organizzatore di tornei Arbitro Insegnante di scacchi Per i bambini Insomma promuove I scacchi a 360 gradi L'invito è tornare a trovarci Grazie David Grazie a voi E gli scacchi Sono un'opportunità Per tutti Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi